Palla dentro per Locatelli in area di rigore, il destro di Locatelli e il Milan è in vantaggio con il secondo. La vantatura cerca Suso, al limite Suso, prova il tiro Suso! Il vantaggio del Milan! Il colpo di testa di Paletta! E passa in vantaggio il Milan al 70 settesimo minuto! Martin Kroos, attenzione, colpo di testa, Isabella, pallone! Col destro calcio e porta Donnarumma! Parata! Il guardiano della Luna! Super! La mette sul fondo! Vito! Vito! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501